Mi ha fatto un po' di fatica all'inizio, quando giochi contro una squadra di Serie A è normale che c'è un po' di timore, quindi poi una volta trovato un po' di tranquillità e abbiamo iniziato a giocare, a fare i nostri trami di gioco, abbiamo messo anche diverse volte in difficoltà, potremmo fare gol noi, come potevamo fare gol loro. È stata una bella partita, giocata a Pisa aperto, quindi questo è molto importante. Mi premeva vedere la squadra contro una squadra di categoria superiore, sono contentissimo, soddisfatto di quello che hanno fatto, è normale che il nostro campionato è un campionato diverso e quindi con questa mentalità possiamo troverci qualche soddisfazione. Ho già dichiarato alla Virginia che non avevamo niente da perdere, quindi dovevamo venire qua e farci fare la nostra partita, come giusto che sia, anche perché se fai le barricate e prendi gol lo stesso. Quindi mi ha fatto molto bene, per 90 minuti abbiamo tutto bene il campo, poi è normale che poi siamo scesi tantissimo, però ci serviva anche per farmi notaggio e per far gamba, visto che tra poco inizia il campionato.